È importante la comunicazione, è importante l'attività dei giornalisti, è importante la cronaca giudiziaria. È essenziale che nel Paese questi spazi non vengano ridotti. Perché? Perché la giustizia in realtà viene amministrata in nome del popolo e quindi i cittadini devono comprendere quali sono le vicende che in realtà riguardano le aule di giustizia e debbono poterle valutare. Ed è un processo anche circolare, nel senso che grazie anche alla dialettica con l'opinione pubblica ci si rende conto di quali sono anche gli elementi che non funzionano nella giustizia e si riflette su come è opportuno cambiarli. Quindi sempre maggiori spazi per l'esercizio del diritto di cronaca, per la libertà di stampa e penso che questo sia il sale della democrazia oltre che un beneficio anche per la giurisdizione.